In questo momento ho un misto dentro di me di emozioni, di mancanze, di gioia, di concredenza, di realizzazione. E di tanto amore, ma tanto amore. A tutti lo auguro come Francesco, a tutte le donne che non credono più nell'amore. Graziana, vi uccide Graziana, non posso piangere. Francesco e Valentina, oggi voi realizzate non solo il vostro sogno, ma prima di tutto la volontà di Dio. Ciao. 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 Amarsi non significa che lei, che lui la deve pensare necessariamente come la penso io forse all'inizio del fidanzamento può uno farse, anzi dice no no c'hai sempre ragione tu ma poi cammin facendo perché ognuno anche dopo il matrimonio deve essere se stesso e se io la vedo in maniera diversa non significa che non voglio bene mia moglie e mio marito poi c'è una cosa importante, il dialogo e nel dialogo dove ognuno cerca di rispettare l'altro le cose si accettano e si fanno diventare realtà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti